Ho visto la rasatura a 7, un bel lomo. Sei emozionato? Eh, tanto tempo non si è un bel giocatore così, abbastanza direi di sì. Dove puoi arrivare ora a Fiorentina? Ora forse si può giocare assolutamente per l'Europa e penso anche se si giova bene anche per il quarto. Ho fatto le foto? I video. Come ti è sembrato? È vero saltava quando dicevano che non salta Juventino? No, questo non l'ho visto, non l'ho arrivato in vita, mi hanno spinto quindi sono riuscito a farlo. Ti sei emozionato? Sì, è un bel giocatore. Ho visto? Siete riusciti a vederlo? Solo gli occhiali, purtroppo solo gli occhiali. Sei emozionato anche lui? Sì, molto emozionato, credo di sì perché è una piazza per Firenze, è una cosa, insomma, è bella per tutti. Insomma, con 40 gradi tutta questa gente. Mamma mia, guarda, la mia moglie mi ha detto mettiti la maglia nera, gliela è meglio se me l'aveva messa via. Guarda bella la maglia nera. Numero 7 per forza. Numero 7. Hai visto? Ce l'hanno anche tra i capelli, se l'hai rasato. Se l'hai rasato i 7 tra i capelli, ma glielo danno i 7 per forza, pulgar dagli i 7, un appello al nome di tutti i tifosi. Com'è? Penso che Firenze ci abbia bisogno di un nome, poi se ha un'età un po' avanzata o che, Firenze ci ha bisogno di queste cose. Ha portato anche i bambini. Sì, sì, essenziali, sono loro che lo chiedono a noi. Vi siete emozionati? Sì, non si è visto niente. Perché? Perché? Tutta la gente davanti. Troppa gente.